Il corpo senza vita di un 54enne è stato trovato ieri sera intorno alle 22 all'interno di un'abitazione a Mariglianella in provincia di Napoli. Il corpo presentava diverse ferite da puntettaio. Sul posto in via Torino sono intervenuti i carabinieri allertati dal 112, oltre al PM di turno e alla sezione rilievi del nucleo investigativo dei militari. La vittima si chiamava Giuseppe Basso. Poche ore dopo vi è stata anche la scoperta di un altro cadavere verso le 23 nell'area antistante del cimitero di Castello di Cisterna, i carabinieri hanno rinvenuto il padre della vittima, il 79enne Telesforo Basso. Per gli inquirenti l'uomo si sarebbe sparato con una pistola all'interno della propria auto, il principale sospettato dell'omicidio di Giuseppe sarebbe proprio il padre. Al momento si tratta ancora di un'ipotesi investigativa che però con il passare delle ore acquista sempre più concretezza. Il movente del delitto sarebbe da ricercare in dissidi di lavoro ed economici tra padre e figlio. I due infatti gestivano insieme un'autofficina. La vicenda è stata rapidamente ricostruita dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Verso le 21 di domenica sera alcuni vicini di Giuseppe Basso avevano lanciato l'allarme indirizzando i militari della compagnia di Castello di Cisterna verso il suo appartamento in via Torino 5. All'interno giaceva in una pozza di sangue il corpo senza vita dell'uomo massacrato a coltellate. Le forze dell'ordine si sono immediatamente messe sulle tracce del padre anche perché sarebbero noti dissapori e le liti anche violente fra i due. L'ultimo litigio, questa è l'ipotesi di Kindaga, sarebbe degenerato appunto da sfociare nel sangue nell'omicidio del 54enne. Trascorsi un paio d'ore senza alcun riscontro di Telesforo Basso è avvenuta la seconda terribile scoperta. Il principale sospettato dell'omicidio di suo figlio si era tolto la vita nella propria auto parcheggiata nei pressi del cimitero di Castello di Cisterna. Grazie.